Buongiorno ragazzi, oggi sono qui nel bagno di mia madre per effettuare una riparazione in quanto la guarnizione del canotto dello scarico del water perde. Ho voluto documentare anche questo piccolo lavoro di manutenzione perché potrà essere utile a qualcuno. Si tratta di un lavoro abbastanza semplice ma non per questo non è privo di difficoltà e bisogna comunque adottare alcuni accorgimenti. Questo canotto come vedete è inserito fra due guarnizioni, quella all'interno del water e quella al muro. Per l'operazione preliminare vi consiglio di chiudere l'acqua di carico dello sciacquone e scaricare attraverso il pulsante tutta l'acqua all'interno contenuta. Che vedete sono gli utensili e i ricambi che ho utilizzato per questa riparazione. Bene, il problema si rileva solo con una guarnizione. Dal momento che farò il lavoro preferisco cambiarle tutte e due, sia quella dal lato del water che quella dal lato della parete. ecco come si presenta la vecchia guarnizione. ecco. 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 poiché l'area di lavoro limitata non permette un'ottima presa, si può incontrare qualche difficoltà per smontare il canotto. tuttavia intervenendo con gli attrezzi giusti si può facilitare il lavoro. In una precedente riparazione avevo inserito un canotto di una lunghezza adeguata ad essere facilmente sfilato. Se vi troverete invece a sfilare il canotto originale probabilmente questo sarà più lungo ed inserito all'atto dell'installazione del WC e quindi non uscirà facilmente e dovrete tagliarlo. Come vedete dal lato della guarnizione che perdeva si è formato tanto calcare. Tutto questo calcare deve essere eliminato prima di inserire la nuova guarnizione. Come vi ho detto già in precedenza, sebbene la guarnizione al muro non ha destato problemi, una volta effettuato il lavoro preferisco cambiare anche questa, almeno starò più tranquillo. Infatti aveva già perso qualche residuo ed era in fase di deterioramento. Magari sarebbe durato ancora diversi anni, ma prima o poi l'avrei dovuta cambiare. Qui ovviamente va tutto ripulito prima di installare la nuova guarnizione. Qui vi indico le misure, è un O-ring per WC 4330, infatti il canotto ha un diametro da 30 mm. Questo invece è il morsetto dal lato del WC. Ne esistono di diverse misure, voi fate riferimento a quello che avete tolto. Ora per togliere tutto quel calcare che abbiamo fatto vedere prima, essendo il water montato, quindi dovendo lavorare al contrario senza avere una vista diretta e con poco spazio, ho sacrificato un cacciavite piegandolo a 90 gradi e dando dei piccoli colpetti. A questo punto si è tolta completamente intera la lingua di calcare. Avevo comunque una vecchia rimanenza di un tubo cromato dell'estesso diametro e quindi ho preferito tagliarlo alla stessa misura per sostituirlo. Se non avete una tagliatubi potete utilizzare tranquillamente un seghetto a ferro. A questo punto vado a rimontare inserendo la nuova guarnizione O-ring ed utilizzo anche del sapone concentrato per piatti, per facilitare l'inserimento dell'O-ring e del canotto di scarico. Prima di posizionare il canotto di scarico inserisco guarnizione e borchia. Ecco, questo è il momento che mi ha creato più problemi, cioè l'inserimento del canotto nella guarnizione a parete. Per sé l'inserimento sarebbe semplice anche grazie all'utilizzo del sapone liquido, ma proprio perché c'è poco spazio la cosa è resa molto più difficoltosa. La presenza anche della borchia non aiuta in questa operazione. Di fatto dopo tanti tentativi andati a vuoto ho optato per inserire il canotto senza guarnizione e senza borchia. Dopodiché l'ho sfilato, ho rimesso velocemente borchia e guarnizione ed è entrato molto più semplicemente. Per dare maggior forza di penetrazione ho utilizzato un pezzo di fil di ferro fatto a uncino. Attenzione perché quando rispingerete la guarnizione del WC questa tenderà a far indietreggiare il tubo e a sfilarlo dalla guarnizione a parete. Se invece volete utilizzare del lubrificante all'altezza della guarnizione questa diciamo si faciliterà lo scivolamento della guarnizione sul tubo, ma imbratterà tutto il tubo e a quel punto non avrete più forza per stringerlo perché scivoleranno anche le mani. Insomma dopo avere un po' imprecato in questa fase alla fine la riparazione è stata eseguita correttamente. A questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici sui social e se non l'avete ancora fatto iscriviti al canale. Un saluto a tutti. Grazie 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 Grazie